Sicuramente siamo all'inizio, siamo venute qua consapevoli di dare tutto quello che abbiamo preparato in tutto questo tempo. Giustamente ci vuole attenzione, soprattutto mentale, perché comunque sono tre partite da giocare e se ci va tutto bene anche 4 e 5. Quindi la cosa fondamentale è starci con la testa e lottare fino alla fine su ogni pallone per avere una meglio. Oggi eravamo deconcentrate al massimo, ci è visto già dai rigori all'inizio, abbiamo sbagliato l'impossibile, in difesa assolutamente abbiamo fatto una bella prestazione, però come si dice ormai è andata, basta, si guarda avanti già da domani e cercheremo di fare meglio e di recuperare tutto quello che oggi non siamo riusciti a fare, e poi ci andremo di fare meglio un anno e lui è diventato da dire, da questa prestazione.